buon signori trailer di david jane ultimo trailer ce lo guardiamo integrale come sempre e poi facciamo le dovute analisi e Grazie a tutti Grazie a tutti Cioè è pazzo è bellissimo Il diavolo è ammattito Tantissimo Allora Ditemelo anche voi se Mi confondo ma mi sembra di Proprio di vedere roba che nel command list non ho visto Beh allora qui classic DB2 Usa il DB1 più 2 Per andare poi a fare Una sorta di wake up trap E prendere Un colpo garantito Qui vediamo la flash che è da 10 Magari entra anche 12 non lo so Allora questa cosa qua per esempio Questo praticamente sembra il secondo colpo del trottolino Ma da vs4 Questo è il command list analysis O sono rimbambito o non c'era Lascia l'avversario in crouch e Cioè sembra una bella situazione Proprio anche a livello di frame e tutto Qui abbiamo Qui abbiamo la conversione in mining crow Ma f1 più 4 questo Non la riconosco bene Laserone basso Sul Sul mining crow che butta a terra Bining crow 1 credo Eccola qui la combo dal laserone Questa l'abbiamo già vista uguale uguale nel command list Vediamo una bella schivata secca Su ff2 Vediamo che comunque La schivatina secca Ben azzeccata in questo gioco E' bellissima sta jungle Che poi va a spaccare il pavimento dimensionale Cioè dai è tamarissima sta jungle Troppo bella Bellissima Fvgf Burst Anche sta cosa qua O me la son persa dal command list O C'è una roba che Poi cosa ho mandato Ho mandato in fly o in mining crow Tra l'altro non sto nemmeno capendo che mossa è questa Che ha Quindi fatto l'instant Che ha fatto un tornado E non è di certo fly 3 Quindi questa credo sia proprio roba nuova Guardiamola un attimo No ma questo sembra un mining crow Perché andava in avanti Però questa mossa Non mi sembra Pure questa Di averla vista dal command list Vediamo Tanto ormai manca un giorno e mezzo Anche questo handle Cos'è sto handle Una mossa che ha fatto col 4 Non è ff4 Perché ff4 l'abbiamo visto Il solito colpo alto Antistep Anche questa è una mossa Non presente nel primo command list Qui abbiamo df1 più 2 Un block danno imparata E sembra qui una situazione perfettamente cucinata Per fare entrare il b3 Il simil dive kick Quindi insomma Ci fa vedere Possibile setupino qui Che questa sembra la roba Sembra la roba che fa tipo da bf1 più 2 Però vediamo un piccolo avanzamento Quindi qui è andato in mining crow Prima di fare questo Però forse questa c'era Questa c'era sul mining crow Semplicemente non me la sto ricordando Ho fatto un'indigestione di informazioni Uf4 Quindi ci fa vedere Che comunque Ha saltato un basso Qui si Lo mettiamo a rallentatore Per Per essere sicuri Si 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 Ci fanno apposta Per far vedere Che salta ancora ai bassi Nonostante sia un engager Questo è cd1 più 2 Col continuato da hit Rimane estremamente lontano Ma riesce a riavvicinarsi Con il mining crow Anche qua Db2 Fa questo WS3 Questa mossa Che Sembrava un WS3 Si Tra l'altro su WS3 non ha niente Quindi è molto Molto probabile Che Che sia effettivamente WS3 Sembra addirittura Che questo B2 3 Sia garantito Cioè potrebbe proprio lasciare Potrebbe essere una di quelle mosse Che lascia Spazio a far entrare un engager Come hanno già tutti i personaggi Abbiamo 1 più 2 2 Poi come tornato E la chiude con DF 1 2 E qui Niente WS2 Rejart E bene che dire Per gli amici di Youtube Se vi siete persi la command list analysis Andatevelo a rivedere Sono abbastanza sicuro Che manchi roba E a questo punto ovviamente Poi Tutto un po' Da prendere Con l'idea Che alcune cose Possano cambiare Non cambierà Diciamo il modo Di ragionare Il personaggio Nel complesso Il gioco Non cambierà Come Non stravolgeranno Del tutto Meccaniche Come Elite Però Da qui insomma Alla versione definitiva A questo punto Potrebbero aver ritoccato Anche qualcos'altro Chiudiamo Chiudiamo qui L'ultimo trailer Analysis Prima Prima Poi Insomma Che escano Che escano i DLC Che ormai Ormai ci siamo Con la release Che escano i DLC